ebbene sì ragazzi dopo tanto tempo è arrivato il momento di parlare di questo argomento è arrivato il momento di fare un video su questa situazione che c'è in corso in tanti sotto i video ci scrivete ma che fine ha fatto la 350z è passato circa forse un anno adesso non mi ricordo dall'ultimo contenuto fatto con questa macchina dove noi abbiamo fatto diversi video dove aprivamo appunto il motore per cercare di capire cosa era successo vi lascio la playlist qua sopra sì c'è una playlist dedicata proprio alla scoperta dei problemi che abbiamo trovato su questa macchina sono un po diverso io ma sono sempre io giuro a proposito di playlist iscrivetevi al canale mettete like a questo video e anche tutti gli altri anche se questo video un po diverso degli altri sarà venite anche a seguirci su instagram sia sulla pagina personale che su quella dell'officina dove c'è il numero di whatsapp per portarci i vostri progetti quindi torniamo a noi stavamo dicendo che appunto con Danny Lazzarina abbiamo fatto questa serie dove aprivamo il motore tiravamo giù il motore e lo aprivamo per poi scoprire che c'erano varie tipologie di problemi che lui poi non si aspettava perché era convinto di avere una macchina in ordine e invece abbiamo scoperto che la macchina era con il motore originale non c'era veramente l'elaborazione aveva vari problemi andava meno che una macchina originale eccetera 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 non sto a spoilerarvi tutto era giusto per riassumervi ma vale la pena di andare a dare un occhio a questi video perché per l'appunto siamo stati molto specifici e si vede veramente tutto il processo di smontaggio del motore e i problemi che abbiamo trovato nello specifico anche a livello meccanico è interessante perché comunque per chi è appassionato di meccanica c'è veramente tanto da capire e per chi è appassionato di meccanica ma magari è un neofita si può comunque imparare qualcosina e soprattutto può essere lo spunto per capire cosa fare cosa non fare quando si va a cercare un'auto come questa anche un'auto in generale per non prendere dei pacchi diciamo mettiamola così ma torniamo a noi come vi dicevo prima molto spesso sotto i video da quando è uscito quel video l'ultimo video è stato quello dove con Mario andavamo a fare il primo giro in strada facevamo benzina e provavamo la macchina per la prima volta e sembrava essere tutto a posto ma comunque ci siamo lasciati che la macchina doveva iniziare per l'appunto il rodaggio questo cosa significa che nel momento in cui finite di fare l'elaborazione finite di fare il motore iniziamo ad usare la macchina per permettere al motore di adattarsi ai componenti nuovi per poi arrivare ad un certo punto se tutto è a posto per arrivare ad un certo punto di poter finire la mappa utilizzare la macchina e consegnare poi la macchina al cliente in questo caso Danny per far sì che questo avvenga dobbiamo avere tutte le carte in regola per poter arrivare poi a quel punto quindi non devono esserci stati problemi al motore non devono esserci stati intoppi non devono esserci pezzi che mancano cioè noi montiamo la macchina è tutto a posto facciamo benzina andiamo a provarla facciamo mille due tre mila chilometri insomma in base a quanto Mario decide con i suoi testi compressione e il suo monitorare la carburazione che è indice appunto di un rodaggio che sta progredendo quando Mario dà l'ok poi siamo a posto per andare eventualmente sul banco e finire la mappa e fare quello che dobbiamo fare questo un discorso generico non solo riferito alla macchina di Danny ma bensì è un discorso generico quindi detto questo arriviamo al dunque la 350z come sapete di un cliente particolare Danny Lazzarin ci siamo conosciuti siamo diventati comunque amici abbiamo girato altri video insieme mi ha fatto provare le macchine è venuto qui abbiamo girato una serie su motor trend insomma è successa tantissima roba da quando ci siamo conosciuti per la GTR 33 il primo video che abbiamo fatto insieme appunto quello della GTR 33 che ha fatto milioni di visualizzazioni dove lui si spaventava tantissimo a proposito GTR 33 appunto c'è anche la serie se volete andarvela a vedere con l'RB34 che andrà al triplo di quella volta ma per l'appunto come vi dicevo la macchina è sua e devo dire che comunque Danny è quel tipo di persona che è molto esigente per quanto riguarda i lavori giustamente anche quindi non sto cercando di dire che sia giusto o sbagliato ma semplicemente un tipo di cliente che sa quello che vuole e lo vuole in un certo modo ecco perché poi ha portato qui la macchina per avere una tipologia di lavoro cioè lui si aspettava una tipologia di lavoro che fosse coerente con quello che lui desiderava quindi un lavoro fatto bene un motore che funzionasse la macchina che andava forte e tutto quello che ne consegue anzi devo dire anche la verità la macchina che andava forte è una cosa diciamo relativa perché in realtà lui diceva a me interessa che la macchina torni in strada che sia a posto che non abbia più problemi ecco perché abbiamo pensato anche un elettronica in modo da poter monitorare il tutto ma le cose poi sono cambiate perché con Mario abbiamo parlato e abbiamo deciso di fare un tipo di di lavoro che secondo noi sarebbe stato più consono al tipo di macchina perché fare un progetto del genere per poi rimontare la macchina che va come una normale anche avendo poi avuto il compressore che era montato male non funzionava non girava fuori pressione eccetera eccetera secondo me non aveva senso ecco perché un po ci siamo andati a complicare la vita cercando di tirar fuori un motore molto più resistente per poterlo sovralimentare come poi avete visto dai video rendendo tutto un pochino un po più complicato e arrivando poi alla conclusione che è quello che sto cercando di dirvi da tutto il video quindi quello che voglio dirvi che questo comunque è un video che ho deciso di fare per darvi degli aggiornamenti e farvi capire qual è la situazione reale stanno lavorando qual è la situazione reale di questo progetto che abbiamo in corso da tantissimo tempo non ho capito cosa succede ti do un microfono ma c'è solo è battuto sulla panigale se vuoi facci più forte non è un problema stavo facendo un video perché nei commenti già da parecchio tempo sia me che a danny ci scrivono sempre che fine ha fatto la macchina e che fine ha fatto la macchina io ho fatto questo video apposta il titolo del video sarà tutta la verità sulla 350 z di daniel lazzarin 350 perché lui la chiama così mi la chiamo anche io così adesso non 350 z 350 z di daniel lazzarin come la chiama lui e perché sto facendo questo video è un video dove ho parlato per sette otto minuti non ho detto nulla ok le ho presi un po per il culo ok perché secondo me tanti no ma altre tanti invece sì siccome la macchina è vero che un po di tempo che non si vede sul canale la motivazione qual è è che sono stati fatti degli altri lavori che non sono inerenti alla meccanica che il proprietario ha voluto far fare ci è voluto un po più di tempo perché lui voleva far fare altri lavori e li ha fatti fare sono venuti sono belli e tutto a posto però ci è voluto un pochino più di tempo e quindi la macchina non è stata sul canale perché con danny abbiamo deciso di fare il video finale del motore della meccanica quando anche le altre cose che sono state fatte che dovranno ancora essere fatte probabilmente quindi la macchina non è ancora finita e fare un video di presentazione della macchina finita totalmente sotto sopra dentro fuori di lato insomma che sia tutto a posto e tutto in regola e quindi ci è voluto un pochino più di tempo poi lavoro officina altri progetti insomma le cose vanno per le lunghe stiamo facendo 67.000 macchine tra me e lui tutte diverse c'è il motor trend e tante cose quindi la cosa si è prolungata un po' comunque secondo me io ho avuto questo sentore tanti di quelli che scrivono in commenti alcuni no sono convinto che siate veramente trepidanti come lo sono io anche se io ho già visto cosa può fare la macchina di avere aggiornamenti sul come va e vedere soprattutto la reazione del proprietario che sarà la cosa più interessante ma io ho quel sentore che tanti che chiedono che fine ha fatto questa macchina non lo fanno perché sono interessati effettivamente a vedere il progetto ma lo fanno perché sono interessati a scoprire qualche dramma ovvero macchina finita inizio del rodaggio non si vede più macchina rotta macchina rotta poi la macchina si vede in altri video di danny perché ce l'aveva chissà che cazzo è successo quindi secondo me il pubblico vuole una parte una piccolissima parte di pubblico di stronzi voleva vedere del dramma del problema un litigio che ne so io che cavolo si aspettava invece no mi dispiace questo video video inutile non vi arrabbiate ma prendetela in maniera positiva la 350z finalmente è tornata dopo alcuni aggiornamenti qua e quindi nel breve la vedremo finalmente sul canale la andremo a provare è pronta la macchina a livello meccanico è pronta è pronta avete sentito già un piccolo spoiler di come di come suona veramente power e quindi niente iscrivetevi al canale mettete like venite su instagram su tutte le pagine state aggiornati su sto progetto mettete la campanellina fate quello che volete ci vediamo in un altro video e ciao ciao